Io sono felice anche perché dopo tre mesi e mezzo sentire il Presidente del Consiglio che dice che questa è una mia partita, la seguirò di persona, per noi significa affrontare il tema in maniera molto muscolare e tonica. Il tema non è che uno deve stare con i lavoratori piuttosto che con la proprietà. Dobbiamo trovare una soluzione in maniera tale che l'unica via d'uscita non sia rappresentata dal fatto di togliere qualche centinaio di euro dalle buste paga già scarse dei lavoratori, l'anello debole della catena al lavoratore e non è giusto scaricare tutti i problemi di un Paese nel quale fare impresa è da eroi con un 68,5% di tasse e allora per questo motivo dico no ad accanirsi contro i lavoratori ma troviamo piuttosto una soluzione tutti assieme. Lo so che è una provocazione, il minzaronato viene sempre previsto sabato sul territorio trevigiano e lo incontrerà probabilmente anche i lavoratori, gli amministratori. Forse doveva farlo prima. No, guardi, io non tengo l'agenda del Ministro e non mi occupo degli impegni del Ministro. Fa bene a farlo, penso che i lavoratori lo aspetteranno a braccia aperte anche coscienti del fatto che comunque il Governo ha iniziato a muoversi. Meglio tardi che mai, no? C'è una terza via tra stipendi polacchi o chiusura? Beh, la terza via c'è. Noi abbiamo una tassazione media del 68,5% contro una media europea del 46%. Possiamo lavorare sul cuneo fiscale, quindi fare in modo che oggi lo stipendio vale una volta e mezzo in più rispetto a quello che il lavoratore percepisce. Cioè un lavoratore che percepisce 1.000 euro costa all'azienda almeno 2.500 euro. Noi sappiamo che questi costi si traducono poi in pressione fiscale, si traducono anche in mancanza di competitività. Bisogna fare in modo di finanziare il cuneo fiscale, bisogna fare in modo di finanziare l'abbassamento delle tasse. Questo è quello che dobbiamo fare. Non c'è altro da inventare. E gli strumenti ci sono, perché a livello nazionale si possono fare delle scelte strategiche. Mentre sto parlando, 31.000 utenze, quindi famiglie, sono senza corrente elettrica. È una vergogna. Il governo prende in mano questa situazione, faccia un piano straordinario per la montagna. Non ci vengano a raccontare storie e alibi di ambientalisti, di altre robe del genere, perché la verità è che noi abbiamo diritto a linee elettriche e a strutture e infrastrutture elettriche che portino corrente e che siano degne di questo nome. Paghiamo 21 miliardi di tasse all'anno, non capiamo per quale motivo. Ancora oggi le altre regioni hanno belle infrastrutture, bei tralicci, belle situazioni e noi no. Noi chiediamo che siano fatte queste linee, che siano interrate dove si può, che ci siano tutte le mitigazioni ambientali, ma che ci siano. Si parla di calamità naturale ancora? La calamità naturale è un fatto giuridico, cioè la chiedono i sindaci, noi rispettiamo la legge e ci siamo. Però pensare che due metri e mezzo di neve, che dovrebbero essere oro, manna che scende dal cielo per la nostra industria turistica, diventano un problema per la corrente elettrica. Questo ci fa veramente mandare in ansia. Proprio per questo motivo io continuo con l'avvocatura regionale per preparare la causa contro gli eventuali responsabili di tutti questi guai. Ma le opere viaggiano. Purtroppo abbiamo iniziato noi a fare queste opere, perché prima non c'era niente, c'era nulla sotto vuoto spinto. Lo dico perché sono opere importanti, sono laghi di 100-150 ettari e danno la necessità tecnica dei tempi che si sono andati dalle imprese che devono farle. Le imprese sono lì, stanno lavorando, ma del resto questa non è una sorpresa. È altrettanto vero che siamo sempre in stato di allerta, il sistema di previsione sta funzionando. Certo è che poi il meccanismo della tempesta perfetta si presenta sempre, il scirocco, tanta neve in montagna, la piovosità. Speriamo che anche questa volta si possa vincere questa tempesta. Ricordo anche che la nostra sensibilità, lo dico ai tanti che mi sentono parlare, la nostra sensibilità rispetto alle alluvioni è molto più forte e importante dopo l'alluvione, perché molte inondazioni e molti stati di allerta c'erano anche in passato e molti cittadini distanti di fiumi non sapevano neanche che ci fossero. È la risposta che diamo a 2 milioni e più di accessi e pronto soccorso e quindi la possibilità che a questi cittadini siano date informazioni in sala d'aspetto, sale d'aspetto sempre più all'avanguardia, ospitali, confortevoli, la possibilità di avere dell'acqua fresca, delle prese elettriche, i video per le informazioni, le riviste, ma soprattutto ricordiamolo, quello che ho definiti gli angeli in pronto soccorso. Cioè ragazzi, io spero siano veramente tutti i ragazzi formati che possono lavorare all'interno della sala d'aspetto, tenendo i rapporti con i pazienti che sono lì in attesa e dando in continuazione informazioni. Questo significa anche una possibilità per chi è in attesa di capire cosa sta succedendo all'interno del pronto soccorso, tante volte sono un po' abbandonati a se stesse le persone che sono lì. Guardi, noi siamo i numeri uno a curare. Io mai ricevo lettere che mi dicono mi hanno curato male, ma magari mi dicono ho atteso ore in pronto soccorso e nessuno mi diceva niente. Penso sia più utile avere qualcuno che ti dice guardi, caro signore, cara signora, sta attendendo perché dentro abbiamo un caso grave, abbiamo un incidente, fra un quarto d'ora toccherà a lei. Cioè informazioni in continuo. È quello che si fa ed è un grande segno di civiltà. Tutto deve essere pronto in 90 giorni, ha detto. Beh, 90 giorni è il termine che noi abbiamo dato ai nostri direttori generali. L'operazione è un po' simile a quella degli ospedali aperti di notte. Abbiamo definito le direttive e dopodiché si è partiti con gli ospedali aperti di notte. Lì ha funzionato, funzionerà anche per il pronto soccorso. Grazie.